Oggi parleremo del fiume Ticino, il fiume azzurro come viene definito. Qui siamo nella località di Motta Visconti. Qui c'è un bellissimo porto, praticamente in un ramo, per così dire, morto se vogliamo guardare, del fiume Ticino. In questo momento siamo in inverno, quindi le barche sono coperte, ma d'estate chiaramente è molto trafficato proprio per le persone che vengono con le barche per pescare, per piccole gite sul fiume. Il dipinto che vediamo qui, a fianco a me, è proprio in inverno. È particolare fare, in questo caso, un fiume con la neve. Mi piace quindi dipingere la neve, quindi ho voluto ritrarre questo angolo che vediamo qui a fianco a me, proprio con la neve e con gli alberi che si riflettono nell'acqua. Dietro al castello di Motta Visconti si trova il Battiloro. Il Battiloro era un edificio dove, in passato, lo dice il nome stesso, si batteva l'oro. Naturalmente sappiamo che nel Ticino, fin dall'epoca romana, si estraeva l'oro e allora utilizzavano gli schiavi. Adesso è diventato invece, per così dire, un hobby dei cercatori d'oro, dove trovano pagliuzze e anche piccole pepite. Il Battiloro, quindi, era questo edificio dove, con enormi martelli, battevano l'oro trovato nel Ticino, trasformandolo in lamine sottilissime. Naturalmente, ai giorni nostri, tutto avviene meccanicamente.